Vieni al tuo spirito a significare i doni che ti offrì, che si diventino il corpo e il sangue di tutti i figli di nostro Signore che ci hanno mandato a celebrare questo mito, nella notte in cui, scusa dito, mi ripresta il pane. Grazie per la visione, grazie per la visione. Grazie per la visione.